non ci sarà più più il show però per il resto è vivo vediamo un po' no no niente 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 il mister no sta facendo delle pressioni quindi sta benissimo ah ok la penitenza per aver perso esatto esatto il punto finale grazie esatto il punto finale non ci sarà più il show però per il resto è vivo vediamo un po' no no niente 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 il mister no sta facendo delle pressioni quindi sta benissimo ah ok la penitenza per aver perso esatto grazie